Perciò quando arrivano certe note acute, perché Tosca sei tu, è difficile per tutti, perché steccano quasi tutti lì, perché fanno tu e gli va dietro la voce, e lì bisogna più che mai dimenticare che c'è una O e pensare a una A scura, eh? Tosca! Io ho detto Tosca, ma non ho detto Tosca, io ho detto Tosca, Tosca, solo che l'oscurità, se pensi alla O, ti va dietro, Tos, 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 Tos. Ecco, sembrano trucchetti, e forse lo sono, ma è così? Di qua non si scappa. E attaccare il suono dall'alto in basso, lei pensi che il suono si lo fabbrica qua a lei? A! Sennò viene A e tocca in gola. E deve pensarlo fuori dalla testa, e poi dentro. A! E lei avrà sempre gli attacchi puliti.